attenzione la previdenza non è una tassa previdenza vuol dire appunto essere previdenti risparmiare una parte di quello che si guadagna come riserva per il futuro per costruirci una pensione che ci garantisca un buon tenore di vita l'inps è nato per raccogliere risparmi di tutti e assicurare a ognuno un reddito dopo la fine della vita lavorativa le ultime riforme pensionistiche hanno generato molte domande quando potrò andare in pensione con quanto insomma prevedere e costruire il tuo futuro è sempre più difficile la soluzione affidati all'esperto di previdenza alleanza il tuo alleato per la previdenza sempre al tuo fianco insieme a lui potrai orientarti tra le leggi pensionistiche aprire la busta arancione o leggere il tuo estratto conto inps per farti aiutare a capire la tua situazione personale perché la previdenza non è una tassa ma il modo migliore per risparmiare adesso perché il tuo futuro è già iniziato alleanza assicurazioni da sempre esperti di previdenza